Per dimenticare il primo passo falso, quello di Palermo, il Livorno ha voglia di stupire, magari come quel giorno di ottobre, sette anni fa, con un gol di Igor Protti su calcio di rigore, con Gennaro Ruotolo che lottava a centrocampo e con le indicazioni dalla panchina di un giovane allenatore, Roberto Donadoni, oggi per la prima volta da avversario. Lancio lungo da parte di Contini a saltare Cigarini, prova la sponda, anzi è Quagliarella che mette giù il pallone, prova il destro da fuori, Quagliarella traversa, incredibile, qualcosa ha provato Quagliarella. Quagliarella è stato pronto ad andare sulla conclusione di Campagnaro, prima l'ha deviata volontariamente, anche se con il corpo, De Lucia ha fatto un mezzo miracolo, lui è stato freddo sulla rispinta a mettere la palla in rete. Pulsetti, tocco dentro per Filippini, possibilità per lui, buono il cross, Lucarelli, grande opportunità. Amsic, 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 fino in fondo, Amsic! Strettitoso Marac Amsic, 2-0. Si è cercato lo spazio dove non era marcato dai difensori del Livorno, ha puntato la linea difensiva senza mai perdere velocità, e poi è arrivato davanti a De Lucia con un colpo sotto. Livorno che reagisce, Lucarelli! Grande girata! Il tacco di Tavano, pallone subito recuperato dal Napoli, buon lavoro però di Raimondi, Tavano allora ancora sul pallone. Il tocco è per Candreva, zona tiro, carica il sinistro, traversa Lucarelli! Lucarelli, 2-1, si riapre tutto! Palla recuperata da Raimondi, lui di sinistro, quasi da fermo, è riuscito a far partire un tiro imprevedibile per De Santis che sembrava sotto la traiettoria, però ha proprio cambiato la traiettoria del pallone negli ultimi metri. De Santis è solo riuscito a deviarlo sulla traversa. Maggio per Gargano, trova Amsic, tocca a largo per Quagliarella. Raimondi su di lui, prova a puntarlo Quagliarella, trova lo spazio per il cross, colpo di testa! È andato più in alto di tutti, Maggio! Candreva vuole ripartire, prende bene il tempo a Cigarini, se ne va Candreva, Lucarelli, posizione regolare, possibilità per Lucarelli. Fino in fondo Lucarelli, ora la finta, può caricare il destro! De Santis salva tutto! Occhio al cross, Amsic! E qui forse per la prima volta la difesa del Livorno, distratta. È sempre lì in Livorno, Candreva, un numero il suo, destro di Candreva! De Santis non trottiene! E poi Daniele Vicius, vicinissimo al gol del Pari! Si salva il Napoli! Avanza l'argentino, il tocco per Amsic, possibilità per lui. Amsic, Amsic, per Lavezzi, può chiudere il Napoli la partita. Lavezzi fino in fondo, Quagliarella! 3-1! Ancora proprio Quagliarella! Azione portata avanti, con grande velocità da Amsic e Lavezzi. Poi quasi casualmente il pallone per un intervento di Diniz è finito tra i piedi di Quagliarella, che non si è lasciato fregare. Contini, e dopo quasi sei minuti di recupero, l'arbitro De Marco dice che può bastare così. Vince il Napoli, 3-1. La grande serata di Quagliarella, ma il Livorno esce a testa altissima. Te l'immaginavi così il giorno del tuo esordio in campionato con la maglia del Napoli qui al San Paolo? Oppure sei andato oltre le previsioni? Lo sognavo perfettamente così, sognavo di poter fare gol subito, perché era il sogno di una vita. Al gol non sapevo più come esattare, perché è una gioia immensa. È veramente difficile trovare le parole quando sei con la maglia della squadra che qui è sempre rifata da bambino.